Alimentazione e longevità. All'Università su Rorsola Benincasa di Napoli è stato realizzato il Museo Virtuale della Dieta Mediterranea, con tante curiosità da scoprire. Analisa Angelone. Mangiavo minestra, fagioli, tutta roba di verdure. E' tipo di fosili, fosili con la carne di capra. Non c'era un Natale senza zippoli. Era una festa. Sono ultranovantenni, alcuni hanno più di un secolo, i protagonisti di Possa Campare Cent'anni, una delle sezioni del Museo Virtuale della Dieta Mediterranea, il primo al mondo, che nasce a Napoli, all'Università su Rorsola, per iniziativa degli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro. E' un museo dove si possono incontrare personaggi straordinari, per esempio Ugo Gregoretti, che è uno dei padri della televisione italiana, che racconta tutto il suo rapporto col cibo, la fame del dopoguerra, ma soprattutto racconta il suo incontro con Totò, di come quando Totò gli fece assaggiare i peperoni, anzi i puparuoli. Nella sezione Pionieri le testimonianze degli allievi di Ansel Keys, che nel Cilento codificò la dieta mediterranea. Stiamo parlando di persone che viaggiano tra gli 80 e i 100 anni e che quindi hanno un patrimonio di informazioni sulla vita che si svolgeva per esempio in Campania in quegli anni, che sono preziosissime e in questo modo diventano testimonianze open source. Angelina Vassallo ricorda suo marito, Angelo, il sindaco pescatore ucciso a Pollica. Anche grazie a lui la dieta mediterranea oggi è patrimonio dell'umanità. Usare i prodotti semplici, vivere semplicemente, quindi lui ci credeva molto e cercava di divulgarla molto nelle scuole, soprattutto per i ragazzi.